Di cosa tratta l'iniziativa popolare per la modifica del finanziamento dell'aborto? Più di dieci anni fa, in Svizzera, si poteva fare ricorso all'aborto esclusivamente se la salute della madre era in serio pericolo a causa della gravidanza. Nel 2002, i cittadini svizzeri hanno votato e deciso che l'aborto e i suoi costi venissero coperti dall'assicurazione malattia obbligatoria. Oggi le donne in Svizzera possono interrompere la gravidanza entro le prime 12 settimane. In ogni caso è necessario soddisfare alcuni criteri prima di poter abortire. Ad esempio, la donna deve dimostrare di aver consultato un medico ed aver ricevuto tutte le informazioni necessarie sulle sue altre alternative possibili. L'assicurazione copre i costi dell'aborto indipendentemente dalla motivazione. I soldi provengono dai contributi che tutti gli assicurati pagano alla loro cassa malati per l'assicurazione malattia obbligatoria. Che cosa cambierebbe? I costi dell'interruzione di gravidanza non saranno più pagati dalla cassa malati. Potranno essere fatte eccezioni per i casi in cui la gravidanza va interrotta per motivi di salute o se la gravidanza è la conseguenza di uno stupro. Solo in questi casi la cassa malati potrà continuare a pagare i costi dell'aborto. Se l'iniziativa verrà accettata, il Parlamento dovrà creare una legge che rispecchi esattamente il contenuto dell'iniziativa. Questa legge definirà esattamente quali eccezioni possono essere fatte e quindi quando la cassa malati pagherà i costi dell'aborto. Quali sono gli argomenti dei favorevoli? Le persone che, per motivi etici o religiosi, sono contrarie all'aborto non dovrebbero essere obbligate a pagare attraverso i loro contributi alla cassa malati gli aborti di altri. Una gravidanza non è una malattia. Per questo, gli aborti non dovrebbero essere pagati dalla cassa malati obbligatoria. Se gli aborti dovranno essere pagati di tasca propria, le casse malati risparmieranno molti soldi. Quali sono gli argomenti dei contrari? I costi non devono avere alcun influsso sulla decisione di abortire o no. Questa decisione va presa considerando solo i propri motivi religiosi, morali ed etici. Le casse malati, con questa modifica, risparmieranno pochissimo. Per questo motivo non ha senso cambiare la legge. Se le donne non riceveranno i soldi necessari per coprire i costi dell'aborto, è possibile che decidano di usare metodi di scarsa qualità per cercare di abortire, mettendosi in pericolo. Vuoi che l'iniziativa venga accettata? Allora vota sì. Vuoi che l'iniziativa venga respinta? Allora vota no.